La VL centra l'obiettivo dell'immediato riscatto davanti al pubblico amico. Quattro giorni dopo la figuraccia con Vigevano, Pesero batte Avellino alla Vitrifico Arena 82-77. Una vittoria in bilico fino al finale, ma questa volta la Carpegna Prosciutto Basket approccia la gara con concentrazione, sebbene i campani ribattano colpo su colpo chiudendo il primo parziale avanti 22-21. Nel secondo quarto sale di quota la grande prestazione di serata di Eric Lombardi, che prende per mano una squadra che alza le percentuali e va all'intervallo avanti 38-34. Le schiacciate di Lombardi e Zanotti esaltano i 4100 spettatori della Vitrifico, ma Avellino è sempre sul pezzo e chiude il terzo quarto sotto di quattro punti. Nel quarto quarto si va avanti punto a punto prima che la VL avanza il più 7 con la bomba ad Imbrò che apre la strada al successo. Spettacolare la performance da 28 punti di Lombardi, in doppia cifra anche Amad con 16 e Zanotti con 12 punti e 6 rimbalzi. Dal basket al calcio, secondo pareggio consecutivo per la Vis Pesaro che impatta 1-1 a Sestri Levante dopo un'ora dominata in cui il vantaggio pesarese arriva al 48esimo con la zampata di Paganini, bravo a capitalizzare una torre di Nicastro. Il Sestri però riemerge pareggiando di testa con Barravicini sugli sviluppi di calcio piazzato. Per la Vis il rammarico di una gara fortemente condizionata da un arbitraggio insufficiente che fra vari errori nega un rigore parso solare bianco-rossi e lascia la Vis in 10 espellendo Coppola. Nella pallavolo debutta ottenendo un punto in trasferta la Megabox Vallefoglia che nell'ouvertour di Firenze perde 3-2 contro il Bisonte dopo una gara infinita di 2 ore e tre quarti. Per la Megabox il rammarico di essere andate vicinissime al successo in quanto avanti 2-7-1 oltre ad aver maturato un vantaggio per 12-8 sul quarto set. Firenze ha pure annullato un match point alle Biancoverdi prima di conquistare il tie-break e la vittoria. I parziali 27-25, 21-25, 19-25, 27-25 prima del quinto decisivo set 15-12.